Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e Donne, nell'ultima puntata Federico Nicotera era assente, probabilmente si sta preparando per la scelta che a breve vedremo. In compenso, a regalarci qualche sorpresina, sono state due coppie del Trono Over che hanno deciso di abbandonare il programma romanticamente e amorevolmente. Di chi si tratta? Mo' te spiego tutto, ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nalte, questa è una nuovissima pillola di Gossip. C'era grande attesa intorno a questa ultima registration di Uomini e Donne, diciamo subito che non c'è stata la scelta di Federico Nicotera, come vi ho anticipato nel video di ieri, la vedremo la settimana prossima. Siamo agli sgoccioli, eh? Il tronista non era in studio e con ogni probabilità si sta preparando alla scelta che avverrà presumibilmente nella prossima registrazione. Che mi viene da chiedermi preparare la scelta, non vai su cosa devi fare per prepararti, vabbè. Nell'attesa sappiamo che in questa puntata ben due coppie del Trono Over hanno lasciato il programma. Oh, finalmente un po' d'amore di sentimenti, non solo, non solo. C'è stato pure un forte litigio tra Gianni Sferti e Armando Incarnato, giusto per riequilibrare la situazione litigio, amore e odio, eh? Ma andiamo per ordine. Che ha lasciato Uomini e Donne? Chi lo sa? La prima coppia degli Over ad abbandonare il programma è stata quella di Alessandro Sposito e Pamela. Hai capito, Alessandrino? Quetto, quetto, quatto, quatto, e tutti non gli davano due lire e alla fine ha trovato l'amore. E sì, il Cavaliere Campano, dopo tanti, ma tanti, ma tanti dubbi, si è reso conto di provare dei sentimenti per la dama. Che bello. Per questo si è presentato in studio con tanto di anello, eh, eh, raga, tanta roba, eh. L'ultima volta che ho visto consegnare un anello era Riccardo, eh, vabbè, sapete com'è andato a finire. Insomma, una vera e propria dichiarazione d'amore, quella del Cavaliere, che nelle ultime puntate, che ve lo dico a fa, era finito nell'occhio del ciclone. Invece Ale, che io chiamo amichevolmente così, ha stupito tutti, a differenza di altri che sono seduti lì nel parterre da anni senza concludere nulla. Vero, Armando? Ha deciso di uscire insieme a Pamelina dal programma. Quindi insieme, escono insieme, non ci posso credere. Sarà l'inizio di una bella storia d'amore? Vedremo, io glielo auguro, glielo auguro a tutte e due, veramente, guarda. Sempre nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha comunicato che anche l'extronista Antonella e il Cavaliere Luca hanno deciso di continuare a conoscersi fuori dal programma. Beh, ogni tanto qualcosa di buono, eh? Dunque anche loro, come Alessandro e Pamela, hanno deciso di viversi lontani dalle telecamere. Ma in studio, ovviamente, tutto questo miele, tutto questo amore, no, bisogna compensarlo, perché in studio non è stato tutto rose e fiori. Visto che Armandino e Gianni Spertino hanno dato via ad un'accesa discussioncina. Dalle anticipazioni non è ben chiaro cosa abbia scatenato questo scontro. Vabbè, non c'è bisogno di un motivo per litigare, non l'abbiamo ben capito, ma pare che Gianni, Sperti, si sia infuriato parecchio con il Cavaliere nel momento in cui lui ha chiesto ad Esdemola di uscire. Allora, e se non chiede a nessuno di uscire, ti arrabbi con lui. E se chiede a qualcuno di uscire, ti arrabbi con lui. Allora, cosa deve fare questo ragazzo? Posso dirvelo? Andare a casa. Dunque, pare che Armando abbia messo gli occhi sulla dama, che tra le altre cose sta già conoscendo altri tre signori. Già mi anticipo, e tra un paio di settimane lo vedremo al centro studio, Armando, perché tu vuoi la visibilità? Vabbè, vabbè. Ma come mai questa scelta di Armando? Evidentemente se l'ho chiesto anche Gianni, che ha accusato Armando di non voler mai conoscere le new entry, perché Armando fa così. Inizia questa frequentazione che però non prevede la frequentazione, no? Una telefonata, un messaggino, poi tira sempre fuori qualche minchiatta che non gli va bene. Non ho ben capito a che gioco vuole giocare. Comunque, questo per quanto riguarda il trono over, che diciamo ha tenuto testa. Per quanto riguarda il trono classico, come ha accennato Federico Nicotera a breve, diciamo la settimana prossima farà la sua scelta, lo aveva annunciato proprio la Queen Mary nella precedente registrazione. Ho fatto un video ieri, se vi interessa l'argomento andatevelo a vedere e scoprirete tutti i dettagli. Probabilmente il tutto avverrà questo weekend, il prossimo weekend, quindi tra pochi giorni, finalmente, oserei dire era ora, scopriremo se sceglierà Carolina oppure Alicina. Nonostante il suo percorso sia stato lungo, tortuoso, va dato atto a Federico di aver riportato l'interesse dei tre spettatori di uomini e donne sul trono classico. Eh sì, perché il trono classico, se vi ricordate, non se lo filava nessuno. Federico è riuscito, arrancando piano piano, a combinare qualcosa. C'è infatti grande attesa intorno alla scelta del tronista romano, anche perché fino a this moment, a questo momento, ancora non si capisce su quale delle due corteggiatrisi sia orientato. Non si è ben capito, io stesso faccio fatica a fare un pronostico, eh. Anzi, avete qualche idea? Se avete qualche idea, scrivetemelo nei commenti. Sembra essere un vero enigma questa scelta, il mistero della scelta di Federico. Anche alla luce degli ultimi accadimenti che hanno visto Carola auto-eliminarsi, per poi fare il ritorno in studio, per però dire che voleva andare, però rimaneva, però era interessato a lui, però non voleva rimanere. Vabbè, andatevi a vedere il video di ieri, se non l'avete visto, che vi spiego tutto nel dettaglio. La bionda corteggiatrice, per ora, è al centro delle critiche. Eh sì, se prima veniva elogiata da più parti, ora non sembra essere più così. Pure Maria De Filippi ha nutre qualche dubbio nei suoi confronti. E nella scorsa registrazione è stata attaccata da più parti, anche dagli opinionisti, da Maria De Filippi, un po' da tutto il mondo. Vabbè, gli opinionisti, più che opinionisti dovrebbero chiamarli attacchisti, perché attaccano, attaccano tutti, a prescindere. Comunque, la conduttrice, Maria De Filippi, che fino ad ora l'ha sempre difesa, sto parlando di Carolina, pare aver cambiato idea su di lei. Insomma, la nostra Carol, Carol, ha perso consenso in queste ultime settimane, visto che molti pensano che la ragazza sia interessata più alla popolarità che a costruire una storia sera con Federico. C'è però un fatto da tenere presente. E sì, il tronista, Federico, non ha mai nascosto di essere attratto da lei. E il loro feeling è sempre stato più che evidente. Ecco perché il pubblico non vede l'ora di scoprire quale sarà la scelta di Federico. Secondo voi sceglierà Carola o Alice? Vabbè, la domanda ve l'ho fatta anche nel video di ieri, ma la domanda del video di oggi è... Ma vi aspettavate l'uscita di Alessandro e Pamela? Io sinceramente, oh my god, non me l'aspettavo, mi sarei aspettato che come è successo in queste ultime puntate, che li stanno eliminando tutti, no? Anche quello con la Bentley, avete presente, nell'ultima puntata è stato mandato via, Biagio è stato mandato via, ma parecchi sono stati mandati via. Ho detto, sta a vedere che anche questo Alessandro durerà un gatto in tangenziale. E in effetti è così, ma non è stato mandato via. Quindi, i casi sono due. O ha capito che lo stavano sgamando, allora ha detto, sai che c'è, adesso esco con qualcuno, così esco in pompa magna, faccio il bel figurone, poi come vada vada, oppure veramente era intenzionato a trovare l'amore e l'ha trovato. Ovviamente non possiamo saperlo, o meglio, per il momento non lo sappiamo, lo scopriremo a breve, solo vivendo, perché adesso escono lontani dai telecamere e staremo a vedere cosa combinano. Magari tra un mese si sono lasciati e rientrano a uomini e donne, oppure magari vivranno una splendida storia d'amore, un po' come è successo con Isabella, no? E che nessuno si aspettava. Io ovviamente tifo sempre per l'amore, le emozioni, i sentimenti, quindi auguro Alessandro Pamela un futuro radioso e felice e pieno di felicità. Ovviamente non c'è l'altro a sapere che cosa accadrà e comunque rimanete, continuate a seguirmi, perché io vi terrò aggiornati ogni volta che uscirà qualcosa in tal proposito. Benissimo, comunque, avete sentito il mio pensiero? Il vostro pensiero è, credete alla veridicità dei sentimenti di Alessandro verso Pamela? O secondo voi è tutta una mossa costruita? Insomma, questo è tutto, ci sono lo spazio per i commenti, commentate come non ci fosse domani, fatemi sapere il vostro pensiero, per il resto lo sapete, mettete like, registrate, cliccate, scampanellate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bedazzi! Ciao bedazzi! Ciao bedazzi!